Il protocollo di Savona è un protocollo molto importante, soprattutto per la provincia di Savona, che riguarda un'unione di intenti ma anche di azioni tra Regioni Liguria e le altre INAI e l'ANMI per la ricollocazione lavorativa di chi è rimasto invalido a causa di un incidente sul lavoro. È chiaro che per ogni disabile è importante avere un lavoro, chi è diventato disabile a causa di un incidente patito proprio sul lavoro è anche una sorta di rivincita e quindi c'è l'impegno morale a far sì che attraverso questo protocollo si riescano a ricollocare più persone possibili. Naturalmente ci vedremo tra un anno per capire che ruolo è riuscito a svolgere questo protocollo, questo protocollo è importante, visto che qua a Savona ci troviamo in un'area di crisi complessa, quella di Vado e del suo entroterra e tutta la fascia a monte, quindi vediamo quante persone saremo riusciti a ricollocare attraverso questo protocollo firmato questa mattina.